Le cose verissime La faccia della fuggione Le cose verissime Ciao cose verissime Eccomi qua Scusate l'abbigliamento allarmante Ma visti i tempi ho deciso di usare Il potente mezzo di comunicazione A mia disposizione per darvi Un servizio utile Ci sei Priscilla? In che senso? Nel senso sei pronta Dai è una domanda di rito Che fanno sempre i conduttori Prima di iniziare un corso Dai ma perché mi devi sempre smorzare tutto? Cazzo! Il cane A Gaetano non piace quando mi tratti male Buono Gaetano Io e la Priscilla stiamo solo giocando Non è vero Buono Gaetano! Buono! Buono! Eh 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 basta! Gaetano dai buono buono Che mi rovini la tuta Antiradiazioni Buono! Buono Gaetano Vieni da mamma Ecco noi Cazzo ma com'è possibile Che Gaetano voglia solo la mia di morte? Fa le feste a tutti E a te Ti ama come gli elefanti a Moira Peace Rest in peace Perché siamo vestiti da meccanici? Ignorante Sei proprio ignorante Curiosona! No! Non siamo meccanici ma indossiamo una tuta antiradiazioni nucleari Visto i recenti sviluppi internazionali che ho previsto largamente in questo video del 2017 che ora vi mostrerò Avete gas in avvicinamento? Andate alla zona sicura Fra un po' c'è la guerra! Ecco la nostra zona di lancio! Pronti! Ecco Avete visto? Da belle d'oca Ma ti riferisci al pezzo di video che mi hai fatto vedere? Dove straparli mentre giochi su Twitch? Stavi giocando a COD? Taci Prisci La cazzo Taci Era evidente che stessi parlando di politica internazionale Che avessi già previsto l'escalation Ed oggi sono qui a mettere tutto il mio sapere al servizio della comunità Per far preparare i cose verissimers allo scenario peggiore Secondo me stai un po' esagerando Eh già Poi le bombe ti cancellano quell'espressione da stronza e ne riparliate Anche Gaetano! No no buono Gaetano buono non è vero non è vero Piscilla è bella 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 Buono Gaetano buono Non è colpa mia se Gaetano mi ama Ma figa mi costa 70 euro a settimana di carne e ho 700 punti di sottura E devo dormire con una balestra sotto un cuscino Ed è che te ne sbatti, ti fa le feste e ti ascolta come le pecore il nono di Heidi Non c'è giustizia Vabbè quindi? Quindi adesso prendete nota Come vedete ci troviamo in un bosco Dove sarà facile reperire legna e nutrimenti E se c'è anche un corso di acqua potrete approvvigionarvi di liquide Ecco guardate con questa cannuccia berrò questa pozzanghera No aspetta Ma cosa? Ma che saporaccio Probabilmente i sassi hanno filtrato l'acqua limacciosa Eh non era una pozzanghera era pipì di Gaetano Ma figa che schifo Ma in caso di conflitto anche questa è ferrarelle Vabbè che schifo però Hai l'alito di pannolino Allora in caso di mancanza di energia elettrica potrete crearvi del fuoco Usando della legna secca e qualcosa per accendere il fuoco Come due legnetti secchi da sfregare Ma sei capace? Ma che domanda del cazzo Priscilla Ho fatto 23 anni nei Boy Scout Ah non lo sapevo E perché non ci vai più? Hanno arrestato metà degli anziani per alcune vicende E fraintendimenti su cose ed età delle fidanzate Una storia lunga Ah sì Credo di non volerla sapere Allora cerchiamo qualche bel pezzo di legna Ecco usiamo questo Va che troncone Azz se è sbriciolato Era umidissimo Ma cosa? Uo che puzza Deve essere stato a bagno un sacco Eppure è un po' che non piove Accidenti come puzza questo tronchetto Cosa? 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 Priscilla cosa? Quella è cacca di Gaetano Ma cazzo Gaetano che schifo No 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 Gaetano No no Gaetano Cacca 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 dove vuoi Gaetano Secondo me sto video è da rifare No cazzo Non ho contenuti per la settimana Lo uso come bonus Vabbè Allora spegni cazzo Ho le unghie piene di sterco Cazzo Ma non fai la chiusa? Dopo essermi bevuto La piscia del mio cane E aver massaggiato uno stronzo Che chiusa dovrei fare? Ok Secondo me Gaetano vuole la chiusa E adesso c'è anche il regista Faggela Se vi è piaciuto questo video Iscrivetevi al canale E non perdetevi il prossimo video Dove prendo un gatto come scenografo E un coniglio come assistente audio Ebbè Brutta mozza Cosa? Cosa? Hai fatto ironia su Gaetano Regista Ma dai No No Gaetano No No Gaetano Buono Buono Le cose verissime Grazie a tutti